Dieci carrozzine donate agli utenti dell'Istituto per i Servizi alla Persona per l'Europa di Mola di Bari. E' questo il nobile gesto compiuto dall'Associazione e gli Amici di Morris, nata dieci anni fa dopo la morte prematura di Maurizio Maremonti, cantante pugliese scomparso a 36 anni a causa di un ictus. Un grande aiuto per la nostra struttura che viene poi dopo un periodo di riqualificazione e ristrutturazione che grazie all'Asle Bari è stata effettuata qui nella nostra struttura e a cui si aggiunge anche questa donazione da parte dell'Associazione e gli Amici di Morris che sarà di aiuto per i nostri assistiti. La scelta di effettuare una donazione a Ispe non è casuale, infatti la struttura ha ospitato proprio il giovane artista negli ultimi difficili mesi di vita. Quest'anno abbiamo deciso, nell'anniversario della morte, negli dieci anni della scomparsa di Morris, abbiamo deciso di devolvere questa donazione a questa RSA di Mora perché è un legame che ci ha unito perché è stata la struttura dove ha trascorso gli ultimi mesi di vita Morris. Per dar corso a quello che è la nostra mission della nostra associazione, gli Amici di Morris, ogni anno scegliamo e destiniamo il ricavato del 5x1000 a un'attività di beneficenza. Ci sembrava giusto nella ricorrenza di dieci anni farla a questa struttura, sostanzialmente quello che facciamo oggi e la nostra attività continuerà ogni anno con iniziative nuove.